La fondazione Campanella rischia di sparire con essa anche il polo oncologico d'eccellenza di Catanzaro gestito proprio dalla fondazione. Questo perché l'azienda sanitaria provinciale non può sottoscrivere il contratto per l'acquisto delle prestazioni oncologiche per carenza di fondi e dire che l'accredito dei soldi è stato promesso un sacco di volte ma di fatto nulla è cambiato. Ma eronia della sorte, tutto ciò avviene proprio nel momento in cui a Crotone si sta pensando alla costruzione del nuovo polo oncologico. Me lo sarei risparmiato molto volentieri questo ennesimo grido di dolore proprio per non allarmare ancora di più i malati oncologici che ogni giorno vengono presso il nostro centro. Purtroppo questa situazione però è arrivata a un livello di allarme che non può più essere taciuto alla popolazione di Catanzaro e Calabrese in generale. Purtroppo di quello stanziamento provvisorio fatto con decreto del Presidente della Regione e la qualità di commissario e sottoscritto anche al generale Pezzi da Orlando e da altri dirigenti del Dipartimento della Salute di quello stanziamento di 10 milioni non è arrivato nemmeno un euro alla fondazione proprio perché nonostante si prescrivesse un termine perentorio di 15 giorni successivi al decreto del 30 aprile per la sottoscrizione del contratto con l'Asp per l'acquisto delle prestazioni ancora il contratto ad oggi non è stato sottoscritto. A rendere ancora più triste il quadro la situazione dei dipendenti che non vengono pagati da due mesi tuttavia i servizi vengono ancora erogati ma tutto potrebbe finire da un momento all'altro.